buongiorno e bentornati nella redazione del capoluogo questa mattina è quasi imbarazzante il peso del giornalismo che troviamo nella redazione del capoluogo alla mia destra don attilio cecchini buongiorno avvocato è un onore averla nella nostra redazione questa mattina davvero lo è per me davvero è la mia sinistra a gioco di nicola se parli di peso almeno 90 kg come giornalista di peso un pezzo della storia del giornalismo abruzzese e mentre attendevamo le telecamere partissero don attilio cecchini aveva incominciato la sua storia straordinaria quando ha incominciato la sua attività di giornalista come è iniziato dunque io ero molto amico di un giornalista che tu avrai conosciuto galetano bafile che occupava il tuo posto negli anni al messaggero dal messaggero negli anni 40 negli anni della guerra ed io gli fornivo i pezzi di cronaca giudiziaria io ero un giovane avvocato un giovane praticante avvocato perché gli esami di procuratore si dovevano si erano previsti dopo un praticandato io gli preparavo i pezzi di dei processi penali perché lavoravo nello studio dell'avvocato carlo rossi che allora il principe del foro penale aquilano vecchio socialista antifascista e lui pubblica sul messaggero i miei pezzi e li firmava lui scrivevo io quindi il mio il le mie prime esperienze di giornalista sono state queste la redazione di cronaca giudiziaria penale ma anche prima perché c'è stata l'attività durante la resistenza ma io ho parlato di resistenza durante le regali da no era era un liberale come mi erano scritti al partito liberale e noi facevamo un giornale clandestino che si chiamava notiziario ed eravamo collegati col comitato di liberazione provinciale che era diretto dal colonnello maglio santilli personale straordinario uno straordinario e che ci dava le le disposizioni ed eravamo collegati in prefettura con l'ufficio informativo che era allora partecipato da una nostra compagna di scuola collega figlia dell'avvocato luigi vacca maria teresa vacca maria teresa vacca era la nostra spia cioè ci dava le notizie che usciva che filtravano che riusciva a far filtrare dalla prefettura e noi abbiamo fatto non solamente opera di giornalismo abbiamo fatto opera di salvataggio che noi abbiamo salvato la vita alla famiglia del consigliere di corte d'appello mi viene il nome e contate questa storia andammo ad avvertire a preturo la mattina in bicicletta e il personaggio stava leggendo la storia d'italia di cesare balbo gli diciamo chiuda la lettura scappi perché i tedeschi la verranno a pigliare lei la famiglia giallombardo il commentatore giallombardo padre del giallombardo che a suo tempo catturò uno dei briganti siciliani quindi tutta una storia particolare padre di un avvocato che fu avvocato dell'inps armando giallombardo i quali sono rimasto molto legato proprio per questa per questa storia che poi voi eravate molto bene informati addirittura sapeste in anticipo della questione del duce si attraverso la prefettura sopevamo tutto perché c'era questa spia che non la nostra compagna di scuola che poi ha fatto la la dottoressa al medico a roma era figlia di luigi vacca che allora era il principio del foro civilistico aquilano e avevamo organizzato questo gruppo di spionaggio e di giornalismo e quando arrivò scorzeni voi lo sapeste noi sapevamo che scorzeni passeggiava per l'anguila per preparare la liberazione di mussolini fantastico ed infatti qualche giorno dopo pretese anzi pretese di salire sulla sulla quel piccolo velivolo con gli aglianti le cicogne con le della cicogna di accompagnare lui mussolini da hitler infatti in tre salirono sulla sulla famosa cicogna che riuscì a a librarsi perché c'era il pericolo che si schiava c'era uno si schiantò e uno delle cantate si schiantò proprio siamo nella storia roberta è veramente veramente già ma parte della mia storia è il cinquantenario quando abbiamo festeggiato sul gran sasso per la liberazione di mussolini figurati viverla in diretta da qualcuno che ci racconta qui non siamo al cinquantenario ma siamo a quando è avvenuto davvero impressionante e continua a tutti prego le domande a don attilio arriviamo fino alla fondazione si 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 perché la l'abruzzo liberale questo foglio di cui don attilio si occupa praticamente a tempo pieno era la sua palestra in termini giornalistici però voi con gaetano con don gaetano bafile che ho avuto l'onore di conoscere grandissimo personaggio decidete di andare a fondare un giornale in venezuela e fu un piano a tavolino no eravamo molto legati molto amici quelli erano i tempi di cesare dionisi erano i tempi per figlia i giornalisti se la guila storia del giornale gaetano era un giovane giornalista il quale mi raccontava tra le altre cose questa spirito saggine che frequentavate frequentavano la sala stampa che stava in via della scivicovato nel palazzo postale prima della mia abitazione e mi raccontava gaetano che andava a razzolare nel cestino delle e e si impadroniva delle notizie che gli altri giornalisti ed in particolare c'era di odisi dopo averle comunicare gli stavano essenziali lui andava al cestino spieghiamo questo praticamente nella sala stampa della della delle poste cosa che c'è stata raccontata anche da altri giornalisti dell'epoca si vedevano andavano tutti lì scrivevano a mano e poi comunicavano nelle varie redazioni di cui facevano parte erano i corrispondenti delle varie redazioni quindi questi appallottavano e la gettavano e lui andava lì la sua fonte di informazioni era il cestino delle notizie era un uomo straordinario era giovane era giovane era un ragazzo come te allora quei tempi la era brillantissimo era uno straordinario aveva un naso per le notizie insomma praticamente per me è stato il maestro di giornalismo eravamo coetanei ma lui aveva fatto il giornalista tutta la vita era un era un originario di un italiano ma nato ad Avezzano poi tornato all'Aquila e quindi è stato un aguilano fino a riparare gli è stata data la cittadinanza onoraria per riparare questa nascita marzicana però lui di famiglia aquilana quindi nel suo studio donatilio voi decidete e beh parlando chiacchierando allora andava di modo in venezuela dove va in venezuela o in brasilio in venezuela ma la maggior parte degli aquilani puntava al venezuelo ma che è su venezuela allora poi tra l'altro si diceva venezuela era un paese sconosciuto non lo conosceva nessuno era come dire zanzibar e dicemo ci vogliamo andare a fare un giornale cominciamo a scherzare a ridere ci sopra ci facevano tutti gli aquilani un fiume d'aquilani andò in venezuela i tomassi i de meo i geniti i sanzone i geniti andarono tutti i venezueli paris i paris e allora diceva ma ci andiamo pure noi ma che andiamo a fare in venezuela noi questi andavano a fare il loro mestiere e noi andiamo che andiamo a fare andiamo a fondare un giornale degli italiani si signora andiamo a fondare un giornale degli italiani come lo chiameremo sto giornale la voce d'italia con ritmo settimanale e allora partiamo ce la facciamo si signore e partimmo lui lui si avvantaggiò rispetto a me di un di un viaggio di un pochi mesi perché io ostentavo ad avere la possibilità di uscire perché lui fu lui riuscì ad uscire perché fu raccomandato da da un aquilano da un francescano ma qui hanno padre ludovico dall'aquila che era il rettore del pontificio collegio etiopico dentro il vaticano a roma mia mamma era conosceva bene padre ludovico ed allora per farlo uscire dall'italia lo portammo in maticano e se ne è occupato padre ludovico dall'aquila di procurargli i mezzi per i mezzi i documenti per dare in venezuela infatti lei per entrare in venezuela io per entrare con una qualifica di trattorista agricolo inventata da mia madre da chi ha aiutato mia madre io non lo so non lo voglio sapere perché questo rimane un falso clamoroso insomma il mio passaporto venne scritto non giornale non giornalista avvocato venne scritto trattorista agricolo perché solo con una configurazione con un mestiere che era era richiesto dalla dal paese avrei potuto entrare come trattorista agricolo come giornalista hanno fatto questa è come trattorista agricolo e lei e don gaetano fate praticamente i vetrinisti lei ha detto siamo stati i primi bucum pra della storia lì siamo arrivati volontariamente io sono arrivato in terza in classe in terza classe ho vissuto 18 giorni di navigazione nella stiva di un pirosca fu il portuale che entrò subito in disarmo dopo fu l'ultimo viaggio della una carretta del mare la notte vi inventaste il mestiere di vetrinisti arrivati lì non sappiamo che fare siccome c'erano tutti i bazarri la cosa che ci stupiva caracas era che le vetrine erano pieni zeppe di roba ma questi non hanno idea di che cosa significa una vetrina una vetrina è per esporre e cominciamo a offrirci come vetrinisti arredatori delle vetrine e una delle nostre trovate fu di mettere il quotidiano nella tasca della della giacchetta attaccata bellissima una delle prime idee come vetrinisti nel contempo brigavamo per ottenere il consenso alla pubblicazione di un giornale che lì c'era una dittatura militare quando arrivamo noi c'era una un perez simenez no ancora non bere si emene se era ministro della difesa il presidente della giunta militare di governo era il colonnello carlo delgato scialbò il quale aveva fra i suoi inservienti un napoletano un giovane napoletano che pare che si chiama masciarelli non mi ricordo come però detto muchibien perché parlava talmente male lo spagnolo che invece dire muy bien diceva muchibien e lo chiamavamo tutti muchibien ma sapevamo che era nelle grazie del presidente della giunta militare di governo cioè di degliato scialbò e fu lui ad aiutare fu lui che c'era da noi ci si si ha detto che se può farlo ci ha detto il permesso e questa voce d'italia diventa il punto di riferimento degli di tutta la comunità come si chiamava in quel momento di tutta la l'amplissima presenza degli italiani non soltanto arrivavano abruzzese arrivavano di settimana in settimana in generale che pensavano fosse l'el dorato ma l'el dorato non era era un disastro fu un disastro vivaccavano in piazza bolivare noi avevamo l'ufficio pigliamo l'ufficio in un palazzo che affacciava su piazza bolivare che il cuore della città e la piazza dove è collocato il monumento al simbolo del venezueli che simon bolivare uno dei più grandi personaggi storici dell'america latina dell'america di tutta l'america detto e libertador e lì vivaccavano gli italiani disoccupati lì si affittava la sedia per sedersi a loccia 10 centesimi lì stava la banda militare che suonava il maianera la sera si riunivano gli italiani e lì arrivavano i caporali a a contrattarli per per lavorare come si fanno in voglia diventa talmente importante questo giornale che addirittura garzia marquez che non è ancora il premio nobel per la letteratura ma è un giornalista che sta scavando nell'america latina dell'epoca girava un po ovunque impatta nella redazione della voce d'italia dunque la storia di garzia max si comincia un po più tardi perché lui non stava e lui era corrisponde era il miato speciale di un quotidiano di bogotà a parigi quindi era un giornalista boliviano molto votato il suo quotidiano si chiamava il spettatore quando la bolivia accadde anch'essa sotto dittatura militare con il colonnello roca piniglia il giornale fu chiuso perché era un giornale liberale fu chiuso e garzia max è rimasto senza lavoro queste queste cose che dico ma le raccontate me le raccontate gabriel garzia marquez quando è venuta in venezuela in venezuela è venuto nel 57 alla fine del 57 quindi in piena dittatura militare e era passato per l'italia era stato a roma era stato a parigi da parigi da parigi da parigi a roma lui voleva voleva fare questo raccontato da lui voleva e si interessava di cinematografo voleva iscriversi al centro sperimentale di cinematografia evidentemente non gli riuscì non ci fu possibile e ritornò in america latina ma a bogotà non ci poteva andare perché lui era un comunista era un comunista era inviato del di un giornale liberale ma lui sostanzialmente era di pensiero era comunista quindi non poteva tornare nel suo paese e venne a caracas per caracas e la colombia sono i limitrofi confinano e sono paesi molto legati l'uno all'altro infatti la dittatura venezolana favori l'avvento della del dittatore boliviano colombiano 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 e lui arrivò a caracas nel dicembre mi pare del 57 e ci conoscemmo subito perché lì l'ambiente giornalistico era eravamo ci vedeva molti giorni insomma arrivò sto soggetto da da me che erano simpaticone un uomo di piccola statura con molto simpatico molto molto brillante più pieno di idee allora andava di moda la guerriglia a cuba quindi si parlava di di questo fidel castro del quale lui era diventato amico perché amico in diretta attraverso un poeta un poeta cubano che stava a parigi lo aveva messo a contatto con con il gruppo di fidel castro e infatti lui si mandava di aspettavano da un momento all'altro la la rivoluzione la chiamata infatti dopo due anni salì al potere ai primi i primi fine del 58 primi del 59 quindi ci conoscemmo in un'epoca in cui c'è la dittatura militare sia a colombia e in colombia sia in venezuela però si parlava noi italiani aquilani parlavamo di antifascismo e lui parlava di comunismo di rivoluzione cubana ed è l'epoca in cui erano scomparsi sette siciliani nel 55 erano scomparsi sette siciliani di cui non si sapeva nulla e noi tiramo fuori sta storia della scomparsa di sette siciliani fummo avvertiti dalla segurità nazionale di venezuela di farci fatti nostri perché era pericoloso parlare dei sette siciliani scomparsi quindi allora intuimmo che qui se l'avevano pigliati l'avevano catturato e qualche mese dopo cadde il regime di meri chimene si tornò la libertà quindi finalmente potremmo annunciare infatti i giornali italiani si occuparono a seguito della nostra della nostra denunzia della denuncia della voce d'italia si occupano della scomparsa dei sette siciliani e si venne a sapere che erano stati trucidati dalla sicurità nazionale dagli uffici della sicurezza nazionale della venezuela dalla segurezza sono erano stati catturati perché sospettati di favorire un complotto contro perez chimene che sarebbe stato promosso da un altro generale che si chiamava oscar tamayo suarez il quale in effetti aveva tentato di scalzare il collega non c'era riuscito il collega lo aveva esiliato e questa storia in sospettare memoria questa storia entusiasma garzia marquez e quando quando si parla di cui quando usciamo questa storia e pedici ma tessi scomparsi e lui la fece propria questa storia e ci ha fatto un servizio giornalistico che poi diventa un racconto inserito nei in quel libro di cui tu hai parlato quando era un giornalista felice sconosciuta felice e di sconosciuto questo è il titolo il titolo del libro e cita sia da rubafile ma soprattutto don attilio dice nella redazione della voce d'italia incontro il direttore attilio maria cecchini che sembra piuttosto per il suo fisico un rubacuori del cinema italiano il popolare dalle ragazze di caracas questa citazione si 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 diventai rubacuori rubacuori si si delle ragazze caracchini era una cosa incredibile poi in effetti che era successo è successo che cadde il regime di caracas al 23 gennaio del 1958 sulla rivoluzione quindi andò al potere la democrazia quindi uscimmo allo scoperto insomma noi potremmo pubblicare accertare tutta la verità gaetano riuscì a sapere tutta la verità poi furono catturati assassini dei messi in galera ci furono e ci fu un bellissimo libro di gaetano bafile in chiesa raccontando chiesa di caracas si molto bene questo giornalismo poi con grazia marquez che va a cuba vi perdete di vista sì grazie a marcia va a cuba appena noi siamo in venezueli viviamo questa prima questa prima stagione di libertà e conoscemmo il nuovo capo della giunta civica che era il contra il l'ammiraglio la razza val conoscemmo questo presidente perché eravamo antifascisti quindi avevamo fatto la propaganda per loro noi ci eravamo staccati dalla la collettività italiana fu monopolizzata da un da un filo ghimenista dal milionario filippo gagliardi no questo per evitare per ottenere la conferma alla presidenza circostanza che fece scattare la rivoluzione fu che dette il voto ai agli stranieri promosse un plebiscito estendendo il voto agli strani ripresentandosi come candidato questo milionario salernitano filippo gagliardi che era un filo di ministra lo favorì raccogliendo settantacinque mila firme italiani furono noi resistemmo no 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 noi eravamo contrari eravamo quindi corremmo il rischio pure di essere soppressi questo fatto perché in effetti gli italiani andarono a votare e pere chimene ebbe ebbe il sì del plebiscito 20 giorni dopo fu definisato perché si cadono la rivoluzione questo questo plebiscito scadono la reazione del popolo e due dovete fuggire sì e arrivò al potere una giunta civico militare preseduta dal dal dall'ammiraglio narrazzavano una memoria incredibile con il quale ci troviamo a lei sa roberta no non per toglierti la parola ma perché questo è il passaggio decisivo garzia marquez va a cuba diventa castrista mentre don attilio buca come giornalista l'intervista castro che era forse l'intervista della sua vita perché non siamo riusciti a fare quell'intervista perché io le cose andarono così nel 59 nel 59 nel 60 perché la rivoluzione casista del 59 siete io nel 60 e del 59 ancora combattevano alla serra maestra e siccome in venezuela era era si era restaurata la democrazia il partito fidelista mandò il suo presidente en armas a caracas a raccogliere i fondi per la rivoluzione ed il presidente di cuba en armas che recupera con una dittatura c'era con fulgenio battista però fidel cazzo il movimento di 26 di julio avevano creato uno un governo ombra preseduto da un avvocato che si chiamava manuel urrutia il quale venne a caracas a raccogliere fondi e noi lo accompagniamo nella raccolta di fondi e dimmo il nostro contributo in fondi per la rivoluzione cubana che non si era ancora compiuta ebbe successo all'inizio del 59 ed io poi c'andai nel 60 nel 59 fuggì fuggente un battista e fidel castro con cechevara cammino semfuegos e tutti i capi della rivoluzione entrarono trionfalmente alla vana quindi nel 60 io andai a cuba e presi contatto con 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 la segreteria di fidel castro quando arrivai mi domandarono diceva lei conosce celia sanchez di cubano accetto quella con quella segretaria di fidel castro si sta occupando di procurarle l'intervista nel frattempo io ero assillato dal problema del riuscire dalla da cuba perché cuba rivoluzionaria era ormai diventata era stata isolata dagli stati uniti e per uscire da cuba si poteva solamente passare per gli stati uniti ed io dovevo rientrare in italia passare per gli stati quindi avevo bisogno del visto del consolato nord americano quindi andai prima ancora che mi fissassero l'incontro per l'intervista con castro andai al consolato degli stati uniti per avere il visto di transito col passaporto e mi misi in fila che lì c'era in fila tutta la cuba antica filo 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 di favore del regime caduto no che il fidel castro li buttava fuori e facevano la coda la coda per ottenere il visto di transito che tutti cubani anti anti castristi scapparono tutti andato in florida no e quindi mi si ingoda io mi si ingoda con i cubani che andavano quando arrivai al alla scrivania del con del consolato e presenta il passaporto vederlo il mio nome e cognome fece un accertamento e messo no lei non può avere il visto di transito perché lei a favore del perché perché lei è venuto qua lei sta qui da caracas perché lei è un filo castrista e non possiamo darmi rifiutarono il visto allora il problema mio era quello di come uscire la cuba di composto rimaniamo qua io e quindi andai a non mi ricordo che che mi dette la mano chiedi di questi del regime mi ha detto la mano e mi mi traghettarono a giamaica da giamaica potetti prendere una linea di navigazione aerea che non era nord americana e che mi portava mi aveva portato a lontro poi da lontro a roma quindi la necessità di uscire da cuba mi impedì di attendere il mio turno per ottenere l'intervista a casa l'intervista con il figlio di casa la storia del giornalismo veramente io volevo chiedere una cosa lei che osservava con un po di curiosità o scetticismo mi perdoni non voglio arrogarmi io il diritto di interpretare i suoi pensieri osservava questi telefonini e la nostra diretta facebook instagram twitter assistiamo decisamente a un cambiamento importante del della professione del giornalismo un cambiamento che è un rivoluzionario epocale questa rivoluzione dalla quale sono estraneo io sono un troglodita rispetto a questa struttura io rimango sorpreso io non la conosco la mia pec perché anche io sono sorgente dalla pec è quella di mia figlia non c'è nemmeno la pec non c'è telefonini speciali niente io ignoro tutto però so però ho capito che questa è una rivoluzione epocale questa è come la rivoluzione industriale della metà dell'ottocento che trasformò il mondo questa è questo è una è una è una è una introduzione è una trasformazione della informazione che che sconvolge tutti i vecchi concetti tutti i vecchi i vecchi la vecchia concezione del giornalismo e ormai la comunicazione è una comunicazione che siamo tutti i giornalisti rispetto ai mezzi di comunicazione ogni città io sento i miei amici della gente che c'ha il sito mia figlia c'ha il sito e comunica secondo lei in questo mondo in cui diciamo le notizie se vogliamo ecco poi sono le parole che cambiano senso lei ha detto parlando del giornalista che si riferiva prima aveva fiuto per la notizia e oggi assistiamo dagli reporter in giù a qualunque persona che si affaccia alla finestra con un telefonino e riprende una catastrofe riprende la caduta del ponte quindi lo che dà la notizia esatto quindi la notizia si brucia la notizia si brucia nel momento in cui in cui si nasce manca il figlio tante volte mi sono chiesto questo dico dico ma la stampa è finita la stampa la stampa ordinare quella che quella la cartacea è finita o è prossima a finire perché la notizia ormai arriva ma la stessa televisione riproduce le i dati che escono da internet nei nostri dati i nostri corsi di formazione nell'ultima l'ultimo corso ci hanno spiegato che una notizia ormai dura un minuto l'esclusiva di una notizia un minuto la più grande difficoltà della nostra redazione ascoltavo lei che parlava del ziecchio con le tracce delle notizie è che siamo sommersi di informazione e lì il fiuto del giornalista che deve riconoscere la notizia arrivano in redazione una media di 250 email al giorno quindi posto che ce lo siamo detto prima di iniziare l'intervista don attilio è la persona che fa la differenza che cos'è un giornalista secondo lei il giornalista rimane giornalista il giornalista è chi riflette sulla notizia poi non è solo quello che dà la notizia gaetano mi diceva io devo dare la notizia e io questo questa funzione del giornalista l'ho l'ho vissuto con gaetano il quale mi parlava della notizia la notizia come una come una entità di la notizia debbo cercare la notizia e lui aveva il fiuto per la notizia questo rimane il giornalista è quello che nella nella marea delle notizie che passano attraverso internet seleziona quella che è la vera notizia la notizia che fa la notizia che va curata che va seguita e no secondo me la fronte del giornalista non è finita è finita nel senso del giornalista come scopritore della notizia non è più lui che scopre la notizia la notizia ormai siamo noi siamo noi tutti i giornalisti io io no perché non c'ero il sito ma chi c'è il sito fa fa del giornalismo fa si si ma poi il giornalista è la storia è la memoria l'analisi critica ma questo è la riflessione il ripensamento la implicazione delle conseguenze di una notizia è forse un allargamento del panorama mentre prima il giornale era grande giornalista chi dava fulminamente la notizia oggi è giornalista chi la notizia la sa trattare la sa la sa mi sembra crescere la sa far maturare ne capisce le implicazioni prevede quello che può succedere quello che sarà notizia a me sembra che questa di don attilio sia una ricetta anche per il nostro mestiere cioè non c'è più chi scopre dalla notizia che era un po anche la mitizzazione lo scoop no dire che arriva per primo era era una battaglia immaginatevi senza queste tecnologie che cosa era per cercare di arrivare per primi si faceva di tutto si diceva che il giornalista era capace di vendersi anche la madre per la notizia perché era il suo mantra era quindi questa ricetta che don attilio ci dà su un cambio di ruolo o meglio rimane lo stesso ruolo ma con applicazioni diverse con implicazioni con implicazioni diverse è molto interessante e come diceva roberta come dicevi tu resta al centro del resta l'uomo al cielo l'uomo la donna la morale e la professionista che chiaramente deve avere le sue come dire il suo percorso deve avere le sue esperienze questo è un mestiere di esperienza più si va avanti l'esperienza che ha don attilio un'esperienza molto importante che fa da fa fa fare alla persona da filtro e anche da morale io ricordo un episodio che a me piace molto don atti lo sa della sua storia da giornalista perché quando ritorna l'avete sentito ritorna in italia nel 1960 a paese sera con il quale collaborava sotto falso nome porta un ultimo reportage intitolato ride del mar dei caraibi bellissimo sono cinque puntate tra cui cuba giamaica città del messico salvatore salvador e venezuela li porta alla redazione di paese sera poi comincia a leggere dice sì però qua dovremmo un po perché perché paese sera vicino al partito comunista all'epoca partito comunista che all'epoca si stava avvicinando alla politica della nuova frontiera di kennedy in america nei confronti di cuba quindi era un po attenta a questi meccanismi e dici no qua attenzione o così o niente c'è la schiena dritta che forse oggi di ammigli equilibri attenti purtroppo devo dire anche al ricatto del posto di lavoro chi ce l'ha don attilio è l'editore che magari induce o quantomeno implica molto nell'attività e don attilio così è e per fortuna dico io che si li ha ripresi perché li abbiamo potuti ripubblicare oggi inediti e sembrano scritti da sepulve da veramente da garzia marquez questo ride nel mar dei caraibi che cosa voglio dire voglio dire che la morale della persona del professionista resta nonostante tutte queste tecnologie di cui siamo invasi resta il punto centrale della professione giornalistica e quello che ci dice don attilio forse ci fa veramente rincuorare cioè abbiamo un futuro abbiamo un futuro se sappiamo guadagnarcelo come persone come professionisti al di là della tecnologia la notizia la scuola scopre l'uomo della strada benissimo chi la tratta noi giornalisti ma non come casta ma come filtro di una esperienza di un approccio e di una professionalità alle cose perché non la può fare l'uomo della strada con tutto il rispetto anche se fosse un grande scienziato ma non è un giornalista forse il futuro è questo nel mare magno delle immagini che navigano sul web che si intercettano sarà proprio come ha dimostrato don attilio con la sua storia la professionalità la qualità la schiena dritta la schiena dritta la schiena dritta l'unica cosa che paga tanto è vero che nella trasformazione epocale di questa nostra mi ci metto anche se giovanissima come esperienza da giornalista appunto della nostra professione la tecnologia è soltanto il mezzo ma è un mezzo che accorcia ancora di più lo spazio delle bugie e la storia delle persone la storia dei giornali è più breve sicuramente ma molto più vicino al lettore il lettore si accorge subito di quello che sei di come esci noi ormai siamo sotto le telecamere in ogni momento in ogni secondo questa social tv che avanza significa che ti racconta in ogni momento della tua vita che tu sia con la tua famiglia che tu sia con i tuoi amici che tu sia al lavoro e quindi probabilmente siamo anche di fronte ad un vero trasparente sempre è probabile però io esco rincuorato da questa da questa indicazione che ci dà il maestro esco veramente rincuorato vorrei aggiungere una notazione voi vi domandate qual è il futuro del giornalista in sostanza no se cioè la professione è in una fase critica è una è in una fase di trasformazione ed allora io vi dico questo che la vostra professione la professione di quella che è stata anche la mia di giornalista ma la mia è stata una persona giusta particolare perché io si facevo i servizi mandavo i servizi mandavo le notizie ma i miei servizi erano giudizi infatti quando io portai questo 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 materiale a reportage a roma allora c'era fausto come magari direttore c'era gianfranco corsini che dirigeva gli esteri e mi dissero qua dobbiamo sicco leggevano e trovavano sempre i miei attacchi agli stati uniti come già a capire che non funzionava bene sta storia come cominciano a farmi delle osservazioni dice ma qua ma ma di qua io sono convinto che questa è una un'altra delle fregature che gli stati uniti hanno all'america del sud non vi dimenticate che questa politica che voi intendete sostenere della nuova fronte della nuova frontiera è l'ennesima è l'ennesima bugia del capitalismo nei confronti del sud america il sud america è preda degli stati dominici ma storia è preda storica dopo la fine del dominio spagnolo e del dominio inglese l'america del sud tutta l'america del sud il mezzo continente è nelle mani degli stati uniti quindi questa politica non è sincera non può essere sincera perché il capitalismo è talmente radicato nel sud america che il sud americo non sarà mai libero non potrà mai essere libero tutti i tentativi sono falliti come è fallito una del cazzo anche l'ultimo tentativo il tentativo precedente fu messo in opera da un altro grosso personaggio americano guan domingo peron io ho conosciuto personalmente questo personaggio perché è arrivato esule in venezuela posso dilungarmi su questo punto stiamo parlando di peron arrivo è solo in venezuela defenestrato da buenos aires ci fu una rivoluzione con due di lui dei militari colpo di stato no e arrivò in venezuela messo la luce vento che penso è la sua volta era era dominato da un'aggiunta militare quindi arrivò questo questo personaggio che io ebbia fortuna di conoscere subito non mi racconto la le pirouette che ho fatte per arrivarci perché era in incognito io arrivai a intervistare pc l'intervista però pubblicato l'intervista ripresa tutti i giorni italiani fu l'ultimo tentativo della prima della rivoluzione lui aspirava a rendere l'argentina un paese libero l'argentina non è un paese libero non era non è non sarà fin quando gli stati uniti domineranno il continente quindi quando quando io spiegavo questo a loro lo capivano però mi disse allora non li possiamo mettere o tu ci consenti di di rilevare questi parametri attaccavo continuamente il nei miei servizi intatti il dollaro diventa 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 una potenza corsara praticamente no tu l'hai sottolineato e di della nuova presidenza di general kennedy io parlavo male e questi si stupevano che dice ma questo è una questa è un'ennesima cioè lei donattino dice anche il giornalista deve anche prendersi riprendere il coraggio di di dare giudizi al lettore certo ma io ma io questo lo facevo perché ero dei sentimenti socialisti liberali socialisti liberali progressisti mi dà chiaro che io mi offersi subito al paese sera il paese sera mi entusiasta della della mia collaborazione mi volevano mi volevano trattenere a roma alla relazione fu io credo pensi quindi è oggi che si parla di una informazione fatta da algoritmi cioè automatica che uno dei sogni di alcune anche di alcune forze politiche adesso lei invece induce a pensare che bisogna dare dei giudizi al lettore per fare questo bisogna essere persone bisogna essere giorni cioè il giornalista si deve aggiornare a questa nuova realtà tecnologica scientifica a questo progresso della scienza così come avviene nel 1800 alla metà del 1850 quando uscirono le macchine si trovano tutti disoccupati bisogna specializzarsi con la macchina quindi la stessa cosa bisogna fare oggi e io trovo che la che questa professione del giornalista oggi si potrebbe assimilare a quella antica dell'analista prima dello storico dello storiografo c'era un giornalismo che si praticava sotto la forma di a di redattori di annali gli annali c'erano gli annali quindi secondo me il giornalismo di oggi che si deve adeguare alla nuova situazione scientifiche tecniche tecnologiche scientifica può forse passare attraverso questo questo sostegno questa questa figura la figura dell'analista che non è uno storico non è uno storico e non è un giornalista però oggi sarebbe un giornalista un analista l'analista è quello che prepara i giudizi storici quindi quello che lavora sulla notizia questa potrebbe essere una configurazione della vostra professione una una sottolineare della vostra si bello io io l'ho mai superata anche se rimango a fare io sono sempre un lettore del giornale insomma io ho avuto contatti con i giornalisti li ho continuati li ho tutti i giorni perché il giornalista va subito al penalista a domandargli spiegami le cose quindi ho avuto contatti con tutti i giorni d'italia io ho fatto un processo il processo per russa che ha calamitato all'aguila in italia sono venuti tutti il diritto di impazzano che lei cita sempre questa grande ferita della sua storia di penalista e mi ricordo che quando l'ho intervistata l'altra volta con angelo alla presentazione del vostro libro e perdonate mi apro e chiudo parentesi dobbiamo ringraziare tutti quanti a vostro ci vogliono due puntate allora però devo dire dobbiamo dare atto ad angelo che è riuscito a fare un miracolo donattilio perché abbiamo aperto la sua storia la nostra storia la storia dell'aquila del venezuela lei ce lo deve consentire una cosa straordinaria io l'ho subita e l'ho subita per per ripotenza rispetto della funzione del giornalista e poi per simpatia nei confronti dell'autore del libro il quale mi ha strappato il sì me lo ha proprio letteralmente strappato perché io avevo destinato tutto al silenzio però non riteneva che fosse interessante questo mi ha colpito quando quando io ho quando ho quando io non ho potuto pubblicare quegli articoli conservati che poi a te detto in un'altra occasione per me non era finita lì era finita questo reportage di cui parlavamo molto significativo che testimonia la sua schiena dritta quando paese sera gli dice ma se correggiamo qua me li metti a li pubblica no 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 così o niente che è straordinario siamo negli anni nel 1960 quando è esatto di cui parlavi tu perciò mi sono permesso di citare questo episodio perché proprio emblematico lui dice per me era finito le sue poesie erano finite là erano confinate in un cassetto mentre io a potendo avendo avuto la fortuna di mettere le mani su questo materiale ho detto ma qui siamo di fronte e peraltro se donattino me lo consente credo che siamo andati incontro alla necessità in particolare di questa nostra città forse in questo momento di abbarbicarsi di di stringersi intorno ad un personaggio ad un simbolo ad un totem cioè c'era abbiamo notato con questa queste folle che donattilio muove perché muove le folle non so se le separa questo è un ruolo successivo ma che forse non è il suo ma sicuramente le muove e secondo me c'è proprio la necessità della città degli aquilani di avere un simbolo in questo momento siamo andati incontro a questo se ha un merito questo libro questo diciamo il libro nel senso l'operazione di esaltare questa figura è probabilmente questo ma poi mi ha colpito quanto tu nel rappresentare donattilio cecchini come il totem dell'aquilanitas abbia in un certo senso spiattellato in faccia gli aquilani la verità cioè gli aquilani che non amano nulla gli aquilani che quasi si autodetestano gli aquilani che non accettano niente nessun intervento dall'esterno e però donattilio nell'intervista che è contenuta nel libro dice che questa è la nostra salvezza che è straordinaria questa questo passaggio cioè siamo tutti contro tutti critichiamo tu e adesso qui è perché diciamo il mantra no però questo è quello che secondo donattilio e guardate che questo passaggio alla vigilia del decennale in un momento così importante psicologicamente per noi aquilani è forse la ricetta per andare avanti la il progetto per andare avanti cioè che questo è quello che ha salvato la città dalle varie tragedie i terremoti le pestilenze cioè alla fine questa temperie morale è stata quella che ci ha fatto arrivare fino ad oggi avrebbe distrutto chiunque il terremoto del 1703 ma pensate 20.000 morti 8.000 morti su 20.000 abitanti una cosa pazzesca uno su due e invece l'aquila risorge alla stessa la stessa rinascita che sta avendo adesso difficile per carità però ci stiamo provando e tutti contro tutti esso qui e così come diranno adesso davanti a questa a questa intervista avranno detto però consentimi la prova provata del naso del giornalista donattilio eccola ecco angelo de nicola che la inchioda davanti a davanti alla sua storia davanti poi la porta davanti alle telecamere alla folla e io ho visto la presentazione del libro donattilio era sinceramente non voglio dire commosso ma non si aspettava quella folla di beh c'è stato è stata una cosa è stata una cosa veramente inimmaginabile 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 contro tutto contro lo scetticismo che la contraddistingue sì sì anche contro anche con un po l'apatia anche per cause oggettive e soggettive per carità invece è stato un un moto di affetto veramente come se stessero aspettando che arrivasse qualcuno che ci rappresentasse che fosse una io lo totem morale proprio sta lì lui ci indica la strada e l'esperienza e il ruolo questa utopia anche che l'avvocato rappresenta perché diciamocela tutta si è trattato in utopia il sogno di fare un giornale in america latina partono vanno lì è il sogno di una giustizia giusta che in fondo sulla quale donattilio esprime delle perplessità no il sogno anche di una di una nuova città di una nuovo modo di fare politica che svanisce perché quando si candida sindaco non è stato premiato oggi tutti che incontrano donattilio hanno tutti votato lui e anche donattilio si chiede ma allora se mi hanno votato ma questo per dire che lì si è persa una grande occasione per tutti noi aquilani di questa grande utopia cioè di uno fuori dai meccanismi dei partiti di uno di cui faceva la coerenza nella politica dice donattilio io so più un filosofo che un politico ed è vero perché forse la politica è l'arte del compromesso nel mettersi d'accordo del trovare la strada insieme per arrivare invece donattilio propognava una morale completamente diversa si è trattato in utopia però senza utopie dove andiamo cioè il mondo senza sognare doveva riflettiamoci e sognare a 93 anni è la cosa più bella che possa esserci in questo momento per noi veramente far sognare veramente 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 e questo è rimasto di questo è rimasto molto sorpreso donattilio non se l'aspettava assolutamente questo è venuto a mio favore perché ha tutito un po i nostri contrasti che lui mi definisce prepotente perché dice tu sei un prepotente però adesso lui sta tutendo un po e quindi sta rivalutando la mia prepotenza insomma in determinazione ecco io la ringrazio la ringrazio per questo spazio che ci ha regalato per questa intervista stupenda è stato un pezzo di storia un gran piacere abbiamo titolato giornalismi a confronto sì sì molto interessante le piaccia questo titolo se trovi la sua approvazione signore che secondo me davvero avremmo ce ne fossero di corsi di formazione con i famosi crediti con incontri con persone come io penso che ci ha ascoltato può prendere qualche credito all'ordine comunque la funzione del giornalismo il mio il nostro il giornalismo della voce d'italia è stato così tanto efficace che uno esiste la relazione di un ambasciatore d'italia a caracas nella quale relazione nella qua che io ho avuto riservatamente nella quale si dice che la la sistematica la sistematica campagna di denigrazione dell'emigrazione in venezuela da parte della voce d'italia è una delle cause della della restrizione della della emigrazione italiana in america latina secondo la nostra battaglia in difesa degli italiani e in difesa della dell'armonia della 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 dell'abbattimento della frontiera fra italiani e latino americani perché lì succedeva quello che sta succedendo adesso cioè noi siamo diventati anti emigranti quando siamo stati un paese di emigranti quindi io questa con razione io questa contraddizione nella quale oggi il paese vive questa 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 esigenza di chiudere le frontiere io l'ho vissuta al contrario perché è lì che c'è abbiamo vissuta in prima persona questa umiliazione ebbene perché la reazione alla caduta di peres che non ha portato al alla veramente alla carneficina e il rischio che abbiano corso gli italiani era la carneficina perché il io già ve l'ho raccontato questo ve l'ho detto prima il milionario italiano che era agliardi un filippo gagliardi che era era un pupazzo del regime lui era ricco in quanto era favorevole al regime compromisse gli italiani perché però 75 mila firme e lo pubblico su tutti i giornali noi avevamo il terrore il giorno delle delle siamo stati chiusi in casa il giorno del plebiscito rimanemmo noi antifascisti rimanemmo chiusi in casa perché sennò di pigliava li portavano a votare e si votava mettendo un bollice su una sull'inghiostro e mai che rimaneva la ed era la prova che era andata a votare era andata a fare a dare il voto a pere chimene noi eravamo terrorizzati da tutto questo che succederà ma noi che non abbiamo il posto sporco quindi quando il regime cadde fortunatamente cadde poco tempo poche giorni poche settimane dopo dopo il re dopo il plebiscito ci fu una rivoluzione se non ci stavamo noi in venezuela che avevamo stretto amicizia con raffaele caldera che sarà un presidente del del venezuela democratico se non c'eravamo noi che avevamo stretto amicizia con il partito comunista venezuelano e per esso con il segretario jesus farias la reazione contro gli italiani sarebbe stata di una violenza inaudita quindi questo questo io ripetico al nostro merito merito nostro mio e del mio giornale della voce italia che aveva assunto questa posizione gli italiani l'avevano percepito che noi avevamo questa posizione non pro dittatura ma a favore a favore dell'immigrazione ma a favore della libertà a favore del rispetto delle migranti noi abbiamo salvato noi abbiamo noi abbiamo fatto storia sotto questo punto di vista il nostro giornalismo è stato storia grazie tra dieci anni allora da roberta galeotti angelo di nicola grazie a voi grazie grazie